Buongiorno a tutti, oggi siamo qui con un nuovo appuntamento a cui abbiamo pensato proprio in questo periodo appunto di coronavirus, di isolamento, di chiusura di tanti appuntamenti anche culturali. Tante iniziative stanno nascendo adesso per mantenere viva comunque lo scambio culturale nonostante le difficoltà dal punto di vista pratico e quindi abbiamo pensato che poteva essere una bella occasione parlare di alcuni libri giapponesi che magari molti di voi avrebbero voglia di leggere quando si sono stancati di guardare serie tv. Il pensiero è nato soprattutto ovviamente dagli studenti, dai ragazzi perché chiaramente Nippop è un progetto che nasce all'interno dell'università di Bologna e il nostro primo target sono sempre stati gli studenti ma in realtà sono tanti gli appassionati di Giappone e gli appassionati anche di letteratura quindi abbiamo deciso di proporvi una serie di pillole incentrate su alcuni romanzi, alcuni racconti della storia della letteratura giapponese dalle origini per arrivare fino al mondo contemporaneo che pensiamo possano essere interessanti, stimolanti, insomma i libri che noi porteremo con noi se si decidesse come qualcuno ha proposto di riproporre la situazione appunto boccaccesca di ritrovarsi per raccontarci novelle e racconti. Il primo libro da cui abbiamo pensato di partire è Storia di un taglio a bambù. Storia di un taglio a bambù è forse il racconto più amato della letteratura e della tradizione culturale giapponese e forse molti di voi ne hanno sentito parlare perché hanno visto il film La storia della principessa sprendente di Isao Takahata del 2008 dello studio Ghibli. Se non l'avete visto grandi piccini di media età uomini donne e bambini vi consiglio di vederlo perché è una storia di una delicatezza che riesce a toccare il cuore di chiunque e trae spunto proprio da questo racconto di un anonimo giapponese scritto appunto agli inizi della letteratura della cultura giapponese sul limitare fra l'epoca Nara e l'epoca Heian una storia come dicevo da sempre molto amata che ha avuto tutta una serie di declinazioni e di reinterpretazioni. La vicenda è spesso definita come appunto una favola perché di fatto protagonista è Kaguya Hime, principessa splendente, splendente perché viene ritrovata da un vecchio taglio a bambù quando è una creaturina minuscola nel tronco cavo appunto di un bambù e il taglio a bambù la nota proprio perché lei risplende come se brillasse di luce propria. Il taglio a bambù è senza figli quindi raccoglie la creaturina e la porta a casa dalla moglie dove entrambi decidono appunto di allevarla e di crescerla come se fosse la propria figlia. Kaguya Hime però è una creatura eccezionale, una creatura che chiaramente non appartiene a questo mondo, si vede fin dall'inizio. Infatti a parte quest'aura di splendore che la circonda cresce rapidamente e appunto diventando una bellissima fanciulla. La fama della sua bellezza si diffonde per tutto il regno e oltre e ben presto cominciano ad arrivare dei pretendenti. Ora questi sono una serie di incontri che vogliono stimolare la lettura quindi non vi raccontiamo proprio tutto ma potete capire già da questo inizio come effettivamente storia di un taglia bambuta che tori monogatari in giapponese contenga tutta una serie di caratteristiche che lo avvicinano non solo alla tradizione favolistica ma anche proprio la tradizione favolistica europea più vicina a noi perché ci sono una serie di elementi che sono ricorrenti anche nella nostra tradizione. Il topos appunto del bambino ritrovato che porta in realtà fortuna e felicità rallegrando la vita di chi lo ritrova in modi diversi e ovviamente c'è anche la questione dei pretendenti perché come potete immaginare i vari pretendenti saranno sottoposti a una serie di prove. Il racconto si snoda con leggerezza e con delicatezza e coinvolge appunto sicuramente il lettore in questo percorso che da un lato è familiare appunto proprio per i topoi della fiava di cui abbiamo già parlato e dall'altro invece ovviamente contiene degli elementi affascinanti per il lettore soprattutto europeo perché conducono appunto in un mondo che è il mondo lontano il mondo diverso del giappone perché tanti ovviamente sono riferimenti culturali. È una storia come dicevo che è sempre stata molto amata scusate raccolgo il povero Manu Nian che per l'emozione si è catapultato a terra. Una storia come dicevo che è stata sempre molto amata da grandi e piccini ha avuto una serie di rivisitazioni fin dall'epoca antica per arrivare all'epoca contemporanea vi ho citato il film dello studio Ghibli ma sono tante altre le ispirazioni che le cui radici si possono far risalire a questo racconto anche alcuni personaggi per esempio di Leiji Matsumoto alcune figure femminili di Leiji Matsumoto richiamano sicuramente Kaguya Hime la protagonista la principessa splendente la principessa in realtà della luna. Speriamo di avervi incuriosito nella lettura appunto di questo racconto che in realtà poi introduce appunto in quelle che sono le origini della cultura della letteratura giapponese. È uno dei testi più antichi che ci sono arrivati uno dei testi più antichi che sono stati scritti. La scrittura in Giappone è arrivata relativamente tardi nel quinto sesto secolo ed è arrivata dalla Cina ma il Giappone ha sviluppato poi molto rapidamente in realtà un proprio sistema di scritture ha cominciato a produrre una letteratura autonomamente. Una letteratura che all'inizio è fatta soprattutto di racconti sulle origini del Giappone, il Kojiki, storie di antichi eventi, una letteratura che è fatta appunto di una tradizione più folcloristica fiabesca come storia del taglio a bambù, una letteratura che è fatta di poesia come i componimenti poetici che ritroviamo nel Manioshu e questa commistione fra l'altro e con presenza fin dalle origini di prosa e poesia è una delle caratteristiche della letteratura giapponese direi fino quasi alle soglie della modernità. Noterete infatti anche nel racconto del taglio a bambù come i componimenti poetici siano presenti e siano presenti sullo sfondo. Questa è una caratteristica comune appunto a tutta la letteratura classica dove non esiste un discrimine esatto come accade nella letteratura per esempio europea fra la prosa e la poesia ma dove i due linguaggi in realtà si compenetrano e si fondono per creare dei racconti che continuano ad esercitare anche oggi un grandissimo fascino. Spero appunto di avervi invogliato a leggere questo racconto appunto disponibile nella collezione della letteratura universale a Marsilio a cura di Adriana Boscaro e vi diamo appuntamento alle prossime pillole di letteratura giapponese.